La notizia è giunta inaspettata, il priore Enzo Bianchi, monaco laico, deve lasciare il monastero di Bose. Enzo Bianchi decade da tutti gli incarichi detenuti e dovrà separarsi dalla comunità e trasferirsi in un altro luogo. Provvedimenti scrive l'Ueb di Bose che riguardano anche due fratelli ed una sorella. La decisione è della Santa Sede. La lettera con le decisioni di Paolo Francesco segue l'invio di una visita apostolica per superare quelli che la comunità oggi definisce gravi disagi e incompressioni in grado, secondo loro, di indebolire o addirittura annullare la sua rilevanza ecclesiale ed ecumenica. Il monastero di Bose nel comune di Magnano occupa una vasta zona di migliaia di metri quadri dove si svolgono coltivazione della terra, produzione di confetture, edizione e stampa di libri ed incontri a carattere eucomenico. È tutto.